Ciao, ennesimo video sugli inglesismi, francesismi e l'uso delle parole straniere nel nostro quotidiano. Vi ricordate quando all'inizio c'era Maurizio Costanzo che conduceva la trasmissione in pari che si chiamasse Bontaloro? Mi sembra che, ma forse non era lui, che ci fossero delle pecore finte in trasmissione, però la memoria potrebbe fare cilecca. E niente, è stato uno dei primissimi, forse il primo, a invitare davanti alle telecamere delle persone e a parlare dei fatti loro. Trasmissione in cui si parlava, che non erano le tribune politiche a cui eravamo abituati, ma erano proprio un palcoscenico con degli ospiti, quelli che noi oggi chiamiamo il talk show. Non so perché lo chiamiamo talk show e non possiamo chiamarli discorsi in trasmissione piuttosto che trasmissione con ospiti, ma non so, trovate voi un modo elegante per dirlo e dobbiamo per forza utilizzare questo termine straniero. Ma visto che questi video sono dedicati a questo argomento, io anche vi pongo delle domande e poi se volete date delle risposte. Tra l'altro, molti lo pronunciano anche sbagliato perché lo dicono con la L, talk show, quando se sapessero un minimo d'inglese, cosa che io non so, ma mi sono documentato, si dice talk senza la L, quindi talk show. Che altro termine mi sono segnato qua? Ah beh, sì, quando si va ad acquistare un prodotto che ormai è fuori moda, ma viene rilanciato con la scusa di, non dico fare dei saldi, ma creare proprio una moda che si basa su prodotti old style, noi parliamo di vintage, quindi sono quelle cose, le cose vecchie, le cose vecchie che erano nei vecchi armadi delle nonne che noi buttiamo via, no 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 no, recuperalo perché fa vintage, perché magari con una cucitura in più, con un taglio qui, una piega di là, può ridiventare nuovo. E allora si progettano, si fa il design di prodotti nuovi che sono però vintage, quindi assomigliano, assomigliano a cose, a cose vecchie. E va bene così, e ci pigliamo, e ci pigliamo i vintage, prendi e porta a casa. Ora, sto guardando in basso perché non riesco a sfogliare, ah beh, sì, vogliamo parlare un attimo ancora di politica, tu dirai, è facile dare addosso ai politici, insomma lo fanno tutti, lo fanno i comici, lo fanno i critici, lo fa l'opposizione, ti ci vetti anche tu, ma no no no, io volevo solo dire, vorrei solo ricordare, quella volta in cui Renzi ha esordito col suo discorso, il primo discorso pubblico da Premier, quando ha fatto vedere le slide. Esistevano già le slide, certo che esistevano, però lui le ha, tra virgolette, sdoganate, nel senso che ha sdoganato un termine che era molto tecnico, si usava nelle riunioni, nei meeting, si usava solo in determinate circostanze. Da quel momento la slide è diventata, è diventato lo strumento di ufficializzazione, lo strumento di dimostrazione di quello che stai facendo o di quello che vuoi fare. La slide, che niente a che vedere con lo slide indoors, che era quel film bellissimo in cui, non mi ricordo chi era la protagonista, e comunque, quel film, dai, dove c'erano delle scene che erano, vabbè, adesso non riesco a descrivere, lo slide indoors è un film bello, che ha fatto epoca. Ecco, questo slide, in qualche modo, ha a che fare con lo sliding, quindi con lo slittamento, l'attraversamento, come le porte del film sliding doors, che si basava appunto su ciò che era avvenuto con le porte che si chiudevano e che si aprivano, per cui si generavano diverse scene possibili in funzione che tu l'avessi visto in un modo o l'avessi visto in un altro. Sì, insomma, mi sono incasinato su questa cosa, potrei ripetere il video, ma non lo faccio, lo lascio così perché non vale la pena ripeterlo. Quando entriamo in un sito internet, tutti i miei siti internet hanno come pagina, come prima pagina, una pagina che si chiama ingresso. E io penso di essere uno dei pochi ad avere la pagina di ingresso, come quando entri in un appartamento, cioè io col mio sito internet entro in casa tua, o tu, osservando il mio sito internet, entri in casa mia e dove entri? Non entri in bagno, non entri in cortile, non entri dal balcone, entri in ingresso o in solotto o in ingresso. E tutte le mie pagine si chiamano ingresso, la prima pagina di benvenuto. O si chiamano ingresso o in altri siti l'ho chiamata buongiorno. Buongiorno, ti sto accogliendo, buongiorno, benvenuto. Invece il 99,999% dei siti internet, anche italiani, hanno come prima pagina la home, home o home page. Scusa, mi è caduto il taccuino. Home page perché è la pagina, diciamo, di casa, è la pagina che viene ricondotta all'inizio dell'esplorazione. E quindi la home page viene usata all'estero, ma ormai è stata sdoganata anche da noi in Italia. per cui parlando nelle riunioni con i clienti o con i colleghi, si dice sempre vai alla home e vedi che c'è quella e quell'altro. va bene così. A me non piace, non piace proprio la parola home, anche se mi sembra che qualche volta l'abbiamo usata anche noi, ma perché il cliente lo voleva. e quindi il cliente che paga alla fine non che abbia ragione. Questo no. Ma siccome paga, allora tu in qualche modo vieni assoggettato a quello che dice il CEO, ok? Al CEO della situazione. Oh, oh, io mi sono segnato anche che c'è una marea di gente che non è tifosa di qualcuno, non è ammiratore, ammiratrice di qualcuno, e non è un sostenitore, sostenitrice di qualcuno, ma è un fan. È un fan. Che poi in inglese ha un doppio significato perché il fan è anche il ventilatore, ma non c'entra niente. Ma soprattutto quelli che mi fanno morire sono quelli che dicono io sono una fans. Santo cielo, santo cielo. A parte che nella S non si mette mai, le parole straniere non si usano mai al plurale, ma dire io sono una fans è proprio il massimo dell'ignoranza e dell'idiozia. Cioè tu usi una parola plurale quando parli di te stessa che sei al singolare. Forse è perché sei così ignorante, così idiota, che pensi di essere due volte, tre volte, sei volte te stessa. E quindi in questo caso sei una fans. Alcuni di questi fans fanno un'attività naturalistica bellissima che non è la passeggiata in mezzo al bosco, non è l'appostamento per vedere animali allo stato brado, ma è il bird watching. Bird watching. Letteralmente l'osservatore di uccelli. Non c'è niente di pornografico in tutto questo. Il bird watching è quello che si mette lì, si apposta e guarda gli uccelli. E anche in italiano, in italiano nessuno dice osservatore di uccelli, se no sembra che dica delle parole sconvenienti, ma anche in italiano ci sono appunto quelli che fanno bird watching. Oh, chi c'è ancora? Ah sì, se tu vai in palestra, hai ovviamente il tuo personal trainer. L'allenatore. Una volta c'erano gli allenatori, adesso non ci sono più. Ah, ho avuto che fare con il mio personal trainer, bravissimo, muscoloso, ah, ti insegna, ti tiro di qui, di mola, di là. Meno male che c'è il personal trainer. Vediamo un po', cambiamo argomento. C'è, cosa c'è ancora? Ah sì, la sfilata degli omosessuali, il giorno dell'orgoglio omosessuale, che è il gay pride. Ok, all'estero lo chiamano gay pride in italiano, potrebbero anche chiamarlo in modo diverso, appunto, la giornata degli uomo, degli omosessuali, ma niente di male a chiamarlo così. Cioè, perché vi sentite più fighi se la chiamate gay pride? Bene, io potrei andare avanti una vita, però, direi. Mi sono già stufato da solo ad ascoltarvi, figurati voi. Dico solo una cosa che, adesso interrompo qua l'elenco di parole, perché comincia veramente a stancare la cosa, ma dico solo che ci sono paesi che invece, a differenza nostra, hanno un maggior orgoglio nazionale e rifiutano la maggior parte delle parole inglesi che qualcuno invece ci mette in testa e che noi impariamo e usiamo quotidianamente, anche per sentirci più figli. Cioè, nessuno dira mai o un bravissimo allenatore in palestra, ma tutti diranno sempre, d'ora in poi, sempre, cento su cento, o un ottimo personal trainer. Per esempio, i francesi non dicono computer, che ormai è diventata una parola veramente comune nella nostra lingua, quale potrebbe essere la traduzione calcolatore, calcolatore tonico. Sì, c'erano qualche decennio fa, ma noi abbiamo preferito, nonostante avessimo una grandissima azienda italiana che produceva AdWare Software, che era la Olivetti, abbiamo preferito convertirci agli inglesismi e prendere l'idea e i termini stanieri come computer. I francesi dicono ordinateur e se voi andate in un negozio a comprare un computer, vi guardano quasi male per dire cosa stai dicendo. Gli spagnoli dicono computador. Perché questo? Per essere a tutti i corsi diversi dagli altri? No! Non è essere diversi dagli altri, è essere uguali a se stessi. Sono due cose molto diverse. Significa studiare dei termini nella propria lingua e adattarli ai nuovi prodotti che vengono introdotti nel mercato. Come viene fatto in latino? In latino la bicicletta, per esempio, magari mi posso sbagliare, ma mi sembra che si chiami biota. Perché? Perché la bicicletta, quando c'era l'uso del latino classico, non so, al tempo dei romani, non esisteva e è uscita dopo. Ma non è che in latino si chiama bicicletta o bike, si chiama biota. Poi posso dirlo in modo sbagliato, magari non si chiama in questo modo. Cioè, vengono inventate delle parole nella lingua che si vuole usare per rappresentare degli oggetti che prima non esistevano. Bene. E' tanto difficile farlo anche in italiano. Quindi, magari il termine calcolatore non è adatto, ma magari si può studiare qualcosa di differente. Detto questo, io non parlerò più di questo argomento, a meno che voi non lo vogliate, ma dubito fortemente, perché ho già fatto una serie di video. E quindi il prossimo video tratterà argomenti diversi. se volete scrivermi e fare dei commenti, fatelo pure sotto questo video o gli altri video, o mandarmi una mail, una mail, un messaggio, a ottorino-piccinato.com non è dot com, è punto com.